C'è un detto che dice che le vie del Signore sono lastricate di buone intenzioni, c'è un detto a Perugia che recita il viadotto della Perugia a Bettolle è lastricato di sane bestemmie, è quello che succede, perché con il viadotto che dalla galleria che esce a Madonna Alta, la zona dello stadio, fino ad arrivare a Dolmo, quel pezzo di strada non si sa perché, non si sa per come, ma è come il telo di Penelope, come la tela di Penelope, la notte si costruisce e la mattina si distrugge. Prima l'asfaltatura, poi quando l'asfaltatura e i giusti sono stati fatti in maniera perfetta, che sembrava un biliardo, si sceglie e si dice, oh porca miseria, ci siamo dimenticati di fare le protezioni in acciaio termodinamico iperresistente per evitare che i mezzi, camion, macchine, motorini possano saltare di sotto e precipitare dal viadotto. E allora si risfascia l'asfalto per mettere quelli che sono i guarda rail e poi dopo chi ha messo i guard rail si preoccupa di fare l'asfalto e poi dopo ci si accorge che l'asfalto non è stato fatto bene e praticamente quando passano sopra i camion e le macchine quell'asfalto si sfalda e allora bisogna fare l'appalto di nuovi, bisogna richiamare le persone le ditte che li possono riasfaltare ancora un'altra volta. Tutto questo nel giro di quattro anni con mesi e mesi e mesi e mesi e mesi di lavori continui. Le file sono chilometriche, per fare quel pezzo di strada ci vogliono 50 minuti perché il traffico è tanto in quel pezzo di strada. Strade alternative ce ne sono poche o vai a passare per la vecchia strada che porta a città della Pieve sulla Pievaiola oppure non sai a chi rivolgerti. Eppure è questo quello che accade, le strade sono fatte lastricate di buone intenzioni, il raccordo autostradale è lastricato di buone bestemmie e questo è quello che succede tutti i giorni quando gli automobilisti passano su quel pezzo di strada. Ci si chiede perché, ci si chiede per come, ci si chiede perché quel pezzo di strada sia così tanto protagonista di grossi lavori, di imprese che non finiscono mai, oggi lo finiamo e domani ricominciamo, il traffico che continua ancora una volta a passare su quel pezzo di strada e con l'asfalto che cede in ogni momento. Mi telefonano un sacco di persone per dirmi quello che è, per dirmi oggi ci ho messo 35 minuti, oggi ci hanno messi 40, io sono stato lì tutta la mattinata ad aspettare che, lo so, il problema è grande e il problema è di difficile soluzione, però speriamo che almeno dopo l'ultima asfaltatura, dopo l'ultimo rifacimento profondo di tutto quello che è la massicciata del viadotto, dell'asfaltatura dei giunti eccetera, finalmente questo pezzo di strada, lastricato di tante bestemmie di perugini e non perugini, possa finalmente essere concluso. Ce lo aspettiamo tutti, d'altra parte non possiamo fare altro che aspettare e sperare che si faccia in fretta. Qualcuno dice che i lavori non sono stati fatti bene, io non lo posso dire e non ho le prove per potervelo dire, sapete perfettamente che ragiono per carte, però se si è dovuto ricorrere a riasfaltare quel pezzo di strada che mostrava i segni del tempo in pochissimi mesi, qualcosa sarà pure successo. Grazie per essere stati con noi, nonostante tutto la mia più cordiale buona serata. Grazie per essere stati con noi.